In crescita il consumo di piante di ortensie da parte dei fumatori di droga. La tendenza a usare la pianta, che permette di ottenere effetti simili a quelli della marihuana, è nata da un paio di anni in Germania e non è esente da problemi di salute, fino a causare la morte per soffocamento. Il fenomeno pone un nuovo problema di salute pubblica. Fumare le ortensie può rivelarsi molto pericoloso se non mortale, con il possibile blocco del sistema respiratorio e del sistema nervoso centrale, mentre gli effetti nel lungo termine non sono ancora conosciuti. In Francia si sta diffondendo il furto di ortensie, fenomeno già noto in Germania. Secondo la TV, la gang delle ortensie non agirebbe per decorare il giardino di casa, ma per ottenere effetti simili a quelli della cannabis, mescolando i petali con le foglie di tabacco. Questo sostituto sarebbe molto meno caro e soprattutto meno rischioso sul piano penale per i trafficanti. Berlino ha detto di prendere la situazione molto sul serio, riconoscendo tuttavia che controllare un tale consumo è piuttosto difficile. Difficile impedire alle persone di piantare ortensie nel proprio giardino.